Mi chiamo Gerry Massimo, sono dell'RSU Fialz, abbiamo indetto questo ennesimo presidio, oggi peraltro mi sembra mal riuscito perché stiamo lottando contro questo nuovo orario che l'azienda ci ha obbligato a fare e la realtà è che il nuovo orario è già in funzione e gli effetti si stanno già vedendo, i lavoratori lavorano anche 10-12 giorni in maniera consecutiva saltando i liberi e questo è un danno gravissimo per quanto riguarda la professione infermieristica e soprattutto per quanto riguarda l'assistenza che riusciamo a erogare ai cittadini, quindi è un danno che la regione toscana si sta assumendo, una responsabilità che la regione toscana si sta assumendo a tutto discapito della qualità dell'assistenza che dobbiamo offrire. Noi siamo qui oggi a protestare e lanceremo dal lunedì prossimo un referendum fra tutti i lavoratori perché vogliamo dimostrare con questo che la stragrandissima maggioranza dei lavoratori è contraria a questa nuova turnazione.